Punto di partenza per fare scorribande nei fondamentali della libertà finanziaria. Vi ho già lasciato poco fa con la certezza che qualcuno tra di voi è riuscito a mettere in pratica quei fondamentali e oggi è libero finanziariamente. Ebbene, ce l'abbiamo. Quel qualcuno si chiama Sergio, che dopo una vita da chef si è reinventato digitalizzando la sua attività. Facciamoci spiegare direttamente da lui come ha fatto. Benvenuto Sergio! Grazie Alfio! Appena ho sentito la tua call to action non sono proprio riuscito a trattenermi dal chiamare. E hai fatto benissimo! Vuoi raccontarci il tuo percorso? Certamente! Ho 45 anni e ne ho passati più di 20 in cucina. Sono nato e cresciuto a Carrara, uno dei territori italiani a più alta densità turistica. A destra le Cinque Terre, a sinistra la Versiglia. I miei genitori per me sognavano la laurea, un futuro in uno studio legale oppure da commercialista. Mentre io, con il mio carattere ribelle e focoso, volevo più che altro rendermi indipendente e uscire di casa il prima possibile. Così mi sono iscritto all'alberghiero e ho cominciato a frequentare le cucine dei grandi hotel di Via Reggio Forte dei Marmi. Quando mi sono diplomato non volevo rimanere in Italia. Avevo già lavorato alle corti dei più grandi maestri della mia zona. Per crescere avrei dovuto aprire un'attività mia, ma non avevo soldi e credevo che questo fosse un limite insuperabile. Ne volevo chiederli a mio padre. Soprattutto però volevo uscire dalla dinamica asfissiante in cui ero finito. Con me che tutti i giorni mi guadagnavo il pane, intascando anche bene, e i miei che insistevano sulla necessità più che sull'opportunità di laurearmi. Poi potrei fare quello che vuoi, mi ripetevano. A me fare il cuoco non piaceva più di tanto. Però ero bravo, bravissimo. Una grande promessa per capirci, ma credevo di essere partito più che altro per prendermi una rivincita sulla mentalità dei miei e dimostrargli che avrei potuto fare soldi e vivere bene anche facendo un mestiere diverso da quello che avevano immaginato per me. Quindi sono andato a Londra dove ho trascorso tre bellissimi anni con uno stipendio l'auto, ma non abbastanza per potermi permettere un appartamento decente in una zona accettabile della città. Poi Tokyo, dove ho appreso tutti i segreti della cucina orientale, ma vivevo stipato in una sorta di grande bilocale con altri tre sous chef con me. Ultima tappa Bangkok, il posto dove ho rischiato di fermarmi. Mi sono innamorato della città, della cultura, delle donne, della qualità della vita che si può avere portando a casa uno stipendio alto, ma non eccezionale, e tutto questo mi ha fatto innamorare della cucina tailandese. È stato un periodo fantastico. Finalmente, dopo anni di lavoro e di impegno, facevo una cosa che mi piaceva. E questo mi motivava a sostenere i ritmi assurdi della vita da chef, che sono invertiti rispetto a quello che consideriamo normali. Mentre tutti si rilassano, si divertono, si riposano, gli chef lavorano e viceversa. Ero chef de rang nel ristorante di un famosissimo albergo e ho cominciato a sperimentare piatti che fondessero la cucina tradizionale tailandese e quella giapponese, provando poi ad adattarli alla sensibilità dei palati occidentali per cui dovevo cucinare tutti i giorni. Ero talmente lanciato che stavo pensando di mollare finalmente gli ormeggi e buttarmi nella mia prima avventura imprenditoriale, aprendo un mio ristorante. Poi mia madre si è ammalata gravemente e ho deciso di mettere in pausa i miei progetti per un po'. Quindi, sei rientrato a Carrara? Esatto. Sono tornato a Carrara. A casa dei miei e nella camera di quando ero ragazzo. All'inizio avevo intenzione di rimanere in Italia finché mia madre e la mia famiglia non avessero avuto più bisogno di me. Per poi tornare a Bangkok e riprendere da dove avevo lasciato, ma nel frattempo ho conosciuto Anna, che poi è diventata mia moglie. Quanti anni avevi? Giusto, avevo 31 anni. Anna e io ci siamo innamorati e poi ci siamo sposati a tempo record e abbiamo subito voluto un bambino. Quando mia moglie è rimasta incinta, mia madre purtroppo non c'era più. Però mi aveva lasciato in eredità una piccola somma. In più, negli anni avevo messo da parte un po' di soldi, quindi avevo il capitale per aprire il mio ristorante. Non a Bangkok, certo, ma in Versiglia. Quando è nata Amanda, mia figlia, nonostante la tristezza per l'assenza di mia madre, ero al settimo cielo. Mi pareva che tutto tornasse, che gli astri si erano finalmente allineati. La famiglia d'origine aveva dato segno di apprezzare il mio percorso professionale, la mia nuova famiglia si era appena formata e il lavoro ne è.